Una mappa, 700 chilometri, un camper con a bordo spacciatori di entusiasmo, 10 dialoghi, una visione, 3.000 giovani partecipanti, altri tanti sogni lucidi. Tutto questo è costituzionalmente il coraggio di pensare con la propria testa. Il progetto è nato nel 2011 dalla collaborazione tra l'Osservatorio sulle strategie europee per la crescita e l'occupazione e l'Associazione Culturale 100 Giovani. Giunto alla sua quarta edizione ha visto la partecipazione presso l'aulamagna dell'Università di Roma alla Sapienza di centinaia di ragazzi degli ultimi anni delle superiori, per riflettere assieme ai rappresentanti delle istituzioni, accademici, autorevoli, commentatori, su cosa è cambiato nei 60 anni successivi alla promulgazione della Carta Costituzionale. Come sono percepite e vissute attualmente le norme costituzionali e in particolare qual è il valore che viene oggi attribuito alla Costituzione? Come ha sottolineato Michele Gerace, Presidente Oseco. La Costituzione normalmente viene intesa come un pezzo di carta, ma è un pezzo di carta che se noi lasciamo cadere va a terra e di per sé non significa nulla. Per noi la Costituzione è qualcosa di molto più impegnativo, è qualcosa che va agito, va vissuto, va interpretato e soprattutto va ogni giorno testimoniato. In particolare la Costituzione è una condanna a quello che non funziona ed è la promessa che qualcosa debba e possa funzionare meglio. È un'occasione per accorciare la distanza che esiste tra il paese delle occasioni perdute e delle risorse sprecate e il paese che ha ancora fame e sete di cambiamento, ha sottolineato Marco Sabatino, consigliere della Facoltà di Biologia alla Sapienza. I giovani devono avere consapevolezza delle loro capacità e maturità e crederci di più e quindi essere pratici e fare cose, iniziare presto come fanno negli altri paesi d'Europa. Spezzo ancora una lancia a favore dei giovani. Se questo non avviene troppo è colpa di alcuni adulti che non ci credono e non li hanno aiutati come invece è accaduto quando loro erano giovani. Grazie.